Ciao, in questo video tutorial vedremo come generare un modello in realtà aumentata partendo da Keyshot e come condividerlo in pochi clic. In Keyshot sarà sufficiente esportare il modello 3D in formato .glb, andiamo quindi su File Export, selezioniamo .glb.gltf, assegniamo un nome significativo, premiamo Save ed esportiamo. Colleghiamoci al sito web di My AR Studio e trasciniamo il file .glb al centro dell'interfaccia. Il modello 3D sarà visualizzato immediatamente. Generiamo il poster, cioè la prima immagine che verrà visualizzata in fase di caricamento e assegniamo un'illuminazione. A questo punto il nostro modello è pronto, clicchiamo quindi su Save & Publish. Una volta caricato e convertito, troveremo il modello 3D nella pagina dei progetti, dove possiamo vedere il visualizzatore universale, ovvero il pannello centrale dove è possibile ruotare e zoomare l'oggetto. In basso a destra troviamo il QR code che permette l'accesso istantaneo alla realtà aumentata. ci sono diverse possibilità per condividere l'oggetto 3D. Possiamo inviare il link diretto al visualizzatore universale tramite WhatsApp, email o il canale che preferite. Aprendo quel link si potrà visualizzare il modello 3D su qualunque browser moderno, sia se un PC desktop o uno smartphone, e vederlo in realtà aumentata su dispositivi Apple iOS e Android. Si può inoltre integrare il visualizzatore universale su qualsiasi sito molto facilmente. Sarà sufficiente copiare questa porzione di codice e incollarla all'interno di una pagina web. Vi ricordo che MyAR Studio ha un sistema di hosting integrato, basato su cloud. Non dovete preoccuparvi di ospitare i file su qualche server per visualizzarli o condividerli. È inoltre possibile scaricare un QR code in alta definizione, perfetto per essere stampato. Grazie per aver seguito questo video tutorial. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e vi invito a vedere i nostri video in cui andiamo ad approfondire altre tematiche di Keyshot e MyAR Studio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.